Retroscena scioccante sul Grande Fratello, stando ad alcuni utenti di X che hanno scoperto un video che sarebbe compromettente. I concorrenti sembra che avessero già saputo qualcosa che doveva restare segreto, ma che invece già circolava tra di loro. In particolare, l'attenzione maggiore si è spostata su Enzo Paolo Turchi e alcune sue esternazioni davanti ai coinquilini. E ora sta nascendo una vera e propria protesta del pubblico, che non crede alla bontà del programma. Il Grande Fratello potrebbe aver avvertito prima della puntata i concorrenti di ciò che sarebbe successo qualche ora più tardi. Ma ovviamente conferme ufficiali su questo presunto segreto svelato non ce ne sono e si resta in attesa di eventuali delucidazioni degli autori. Alcuni telespettatori, che sono riusciti a catturare alcuni spezzoni dal Grande Fratello, si sono accorti che Enzo Paolo e gli altri stavano parlando di una cosa che poi si è avverata. I concorrenti pare avessero già saputo tutto del segreto e ora stanno montando le polemiche sul web. Andiamo a vedere cosa hanno rivelato gli utenti in preda alla rabbia. Per alcuni Enzo Paolo avrebbe detto, gli altri due se ne vanno in Spagna, come se lo sapesse già. L'utente polemico col GF ha scritto, ascoltate bene, loro sanno già di andare al Grande Fratello Spagnolo. Che pagliacciata! E un'altra telespettatrice, ma come? Già lo sapevano tutti di andare in Spagna? Ma che pagliacciata, tutti attori in quella casa. Che schifo, tutto pilotato. Come sicuramente sapete, Shaila e Lorenzo sono poi effettivamente usciti e sono partiti alla volta di Madrid per stare al Gran Hermano una settimana. Eppure altri utenti hanno smentito questa ricostruzione, infatti gli altri geffini pensavano solamente che potessero finire in Tugurio non in Spagna. Ma il mistero resta.